Cardio Power It Challenge V3, alta intensità intervallata con cambi dinamici ed esercizi fino a 50 secondi. Iniziamo! Ok, iniziamo. Subito circonduzioni delle braccia indietro, allarghiamo bene, facciamo un bel movimento rotatorio, testa dritta, iniziamo con la respirazione naso e bocca. 5, 4, 3, 2, 1, cambio, sempre lavoro per la parte alta, scaldiamo bene, movimento ampio, circonduzioni delle braccia in avanti, vai, 10 secondi, scaldiamo bene le braccia, scaldiamo bene le spalle, respirazione, 3, 2, 1, cambio, corsetta sul posto, iniziamo a muovere bene tutto il corpo, attiviamo anche le gambe, vai, il nostro prossimo esercizio è il passo incrociato dietro, respirazione naso e bocca, 5, 4, 3, 2, 1, vai, passo incrociato dietro senza salto, attiviamo le gambe, mantengo la respirazione, muovo le braccia, 10 secondi, esercizio successivo, discesa frontale alternata tra 3, 2, 1, cambio, scendo, tocco la punta del piede destro, risalgo e tocco il piede sinistro, scendo lungo la gamba destra e poi sulla sinistra, scaldiamo bene tutto il corpo, iniziamo ad allungare bene, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, saltelata laterale, saltelata laterale da un lato e dall'altro, attiviamo le braccia, ancora qualche secondo e il nostro esercizio successivo è il jumping jack, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, jumping jack, vai, salto sull'avampiede, sguardo in avanti, respirazione sempre attiva, ancora 10 secondi e poi passiamo allo slancio in avanti su una gamba, saltato, 5, 4, 3, 2, 1, vai, slancio in avanti, solo gamba sinistra, slancio in avanti, tocco la punta, saltello dietro e riparto, vai, 10 secondi, solo gamba sinistra, salgo bene, tocco la punta, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, solo gamba destra, slancio della gamba destra, tocco la punta e risalgo, solo da un lato, 10 secondi, esercizio successivo, spinta su gamba destra e sinistra, 5, 4, 3, 2, 1, spinta su gamba destra e sinistra, attiviamo gambe, glutei, respirazione, 10 secondi e abbiamo le quattro sforbiciate più salto, 5, 4, 3, 2, 1, vai, quattro sforbiciate e un salto esplosivo, ancora, quattro sforbiciate e jump esplosivo, usa le braccia sia nella sforbiciata sia nel salto in alto, sguardo in avanti, vai, 1, 2, 3, 4, jump, vai, 1, 2, 3, 4, salto, ancora qualche secondo, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, corsettino sul posto, approfitto per respirare, esercizio successivo skater, 3, 2, 1, vai, da un lato e dall'altro, sincronizzo il passo incrociato con le braccia, vai, passo e braccia, respirazione, ritmo, saltello, non ti fermare, 15 secondi e respiro, esercizio successivo, corsa sul posto, ancora 10 secondi, vai, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, corsa sul posto, respiro, esercizio successivo, skip sul posto più salto laterale, tra 3, 2, 1, vai, skip basso e salto laterale, skip basso e salto laterale, addome contratto nello skip basso, usa anche le braccia per avere più coordinazione nel movimento, vai, skip basso salto laterale, skip basso salto laterale, lavora sulle braccia, skip veloce, salto laterale, ancora 5, 4, vai, 3, 2, 1, corsetta sul posto, corsettina, respirazione, esercizio successivo, skip saltato più apertura laterale alternata, vai, skip e apertura laterale, sempre saltando, una volta a destra e una volta a sinistra, mani sui fianchi, respiro, sguardo in avanti, skip e apertura laterale, skip e apertura laterale, sempre saltando, ancora 10 secondi, vai, da un lato e dall'altro, skip e apertura laterale, 3, 2, 1, ancora corsetta sul posto, respiro, esercizio successivo, balzi laterali più skip, tra 3, 2, 1, vai, balzi laterali e skip destro e sinistro, piccoli balzi a gambe, ampiezza spalle e due ginocchia al petto, vai, balzi laterali e skip destro e sinistro, balzi laterali, skip destro e sinistro, vai, respiro, mantengo il ritmo, sincronizzo il movimento braccia e gambe, ancora qualche secondo, balzi laterali e skip destro e sinistro, ancora 3, 2, 1, cambio, corsa sul posto, ci prepariamo al doppio skip saltato tra 3, 2, 1, doppio skip saltato, doppio ginocchio su e cambio gamba, pam pam e cambio, pam pam e cambio, doppio ginocchio su e cambio gamba, sincronizzo il movimento con le braccia, doppio ginocchio da un lato e cambio gamba, doppio ginocchio dall'altro, lato e cambio gamba ancora, vai, pam pam e cambio, ancora 3, 2, 1, corsa sul posto, respiro, elbow jack più jumping jack più skip, è il nostro esercizio successivo, 3, 2, 1, vai, un elbow jack, un jumping jack e skip destro e sinistro, vai, respira, ritmo e sincronizza i movimenti, ancora un jumping jack con i gomiti, uno normale e due skip, vai, elbow, jumping jack, skip destro e sinistro, 10 secondi, non ti fermare, respira, ancora 5, 4, 3, 2, 1, corsa sul posto, respirazione, esercizio successivo, elbow jack più skip in rotazione, 3, 2, 1, vai, elbow, skip, skip e giro, giro, elbow, skip, skip e giro, gira sempre di 90 gradi, sincronizza bene il movimento braccia e gambe, non ti fermare, ritmo e tecnica, ancora, elbow, skip, skip e giro, vai, 5, 4, 3, 2, 1, corsa sul posto, respirazione, esercizio successivo, due leg jacks più calcio destro e sinistro, 3, 2, 1, vai, apro e chiudo due volte e due calci frontali, due leg jacks e doppio calcio destro e sinistro, sincronizza bene il movimento, due leg jacks e doppio calcio destro e sinistro, vai, pump, pump, leg jacks, calcio, leg jacks e calcio, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, corsa sul posto, esercizio successivo, saltelli laterali più jumping jack, tra 3, 2, 1, vai, saltelli laterali e poi un jumping jack, ruoto il bacino nei saltelli laterali, saltella lateralmente a destra, poi jumping jack, saltella lateralmente a sinistra e ancora jumping jack, vai, saltelli laterali e un jumping jack, jumping jack, saltello laterale, jumping jack e ancora saltello laterale, 3, 2, 1, corsa sul posto, respiro, due elbow jack più salto, tra 3, 2, 1, vai, due elbow jack e due jump, elbow, elbow, jump, jump, ancora due jumping jack con i gomiti e due salti esplosivi, respirazione, separa bene i due movimenti, ancora, due elbow jack e due jump, vai, non ti fermare, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respira, riprendi fiato, il nostro esercizio successivo è tocco ginocchia più doppio tocco talone, saltato, 5, 4, 3, 2, 1, vai, ginocchio, ginocchio, tallone, 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 due skip, due taloni in avanti e due taloni dietro, vai, sincronizza i movimenti, respira e non ti fermare, ginocchio, ginocchio, tallone, 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 ancora, respirazione, ritmo, due skip, due taloni in avanti, due taloni dietro, ancora, esercizio successivo, calciata i glutei, tra 5, 4, 3, 2, 1, calciata i glutei, vai, salgo bene, respiro, ancora, 3, 2, 1, e passiamo allo skater, vai, sincronizza il movimento braccia e gambe, saltello, sposto la gamba dietro, sguardo in avanti, mantengo la respirazione, mantengo il ritmo, non rallento, l'esercizio successivo è la calciata i glutei, ancora, 15 secondi, non ti fermare, 10 secondi, ancora, qualche secondo, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, calciata i glutei, vai, salgo bene, tallone i glutei, esercizio successivo, scroll, 3, 2, 1, vai, mani a terra, salto in plank e torno in piedi, addome contratto, quando scendi in plank, appoggia bene le mani a terra, salto in plank e torno in piedi, salto in plank e torno in piedi, addome contratto, quando scendi in plank, mantengo la respirazione, ancora 15 secondi, non ti fermare, mantieni il ritmo, vai, mani a terra, salto in plank e torno in piedi, ancora, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, esercizio successivo, due balzi, più jacks, più skip, 3, 2, 1, vai, due balzi, un jumping jack e uno skip destro e sinistro, ancora, respira e sincronizza il movimento, vai, due balzi, jumping jack e skip destro e sinistro, dividi bene i tre movimenti, balzi sul posto, jumping jack e skip, ancora, vai, vai, balzi, jumping jack e skip, 10 secondi, ancora, qualche secondo, 5, 4, 3, 2, 1, calciata in glutei, mi sposto a destra e sinistra, salgo bene, calciata in glutei, 3, 2, 1, skip laterale veloce più salto, skip laterale basso e salto, skip verso sinistra e salto verso destra, vai, ancora, skip verso sinistra e salto verso destra, addome contratto e baricentro brasso nello skip, vai col salto, piccoli skip veloci e salto ampio, piccoli skip veloci e salto ampio, ancora, ancora, qualche secondo, 5, 4, 3, 2, 1, passiamo a calciata in glutei, respiro, esercizio successivo, scroll più 4 pugni, 3, 2, 1, vai, mani a terra, plank, torno e 4 pugni, vai, scendo in plank, salgo e 4 pugni veloci, nei pugni veloci mantengo il mezzo squat, attiviamo gambe, glutei, addome, braccia, vai, mani a terra, plank, torno e 4 pugni, scendo in plank, salgo e pugni veloci, vai, 10 secondi, non ti fermare, respira, ritmo, 5, 4, 3, 2, 1, passiamo a calciata in glutei, respiro, skip laterale veloce, più salto, 3, 2, 1, vai, skip laterale basso, più salto, ora andiamo in skip verso destra e il salto è sulla sinistra, skip verso destra e salto verso sinistra, vai, piccoli skip veloci e salto laterale ampio, vai, skip verso destra e salto verso sinistra, ancora, pam, skip laterale basso, più salto, lavoro sulle braccia, lavoro sull'addome, 5, 4, 3, 2, 1 e recupero attivo, respiro, riprendiamo fiato, beviamo un po' d'acqua, approfittiamo per respirare e riprendiamo fiato, ottimo lavoro fin qui, ripartiamo alla grande, il nostro esercizio di partenza è skip sul posto più salto laterale, ripartiamo al massimo, butta fuori tutte le energie, 3, 2, 1, vai, skip basso e salto laterale, skip basso e salto laterale, vai, addome contratto nello skip basso, usa anche le braccia per avere più coordinazione nel movimento, skip basso e salto laterale, skip basso e salto laterale, esercizio successivo, balzi laterali più salto, 3, 2, 1, vai, 4 balzi laterali e un jump, balzi laterali e salto esplosivo, saltella a piedi vicini e spingi bene con le braccia nel jump esplosivo, ancora, vai, 4 balzi laterali e un salto, 4 balzi laterali e un salto, 3, 2, 1, recupero attivo respiro, esercizio successivo doppio salto più skip, 5, 4, 3, 2, 1, vai, skip skip e due jump, skip skip jump jump, vai, usa le braccia nel salto, ginocchio ginocchio jump jump, ginocchio ginocchio jump jump, ancora, mantieni il ritmo, esercizio successivo saltelli laterali più due salti, 5, 4, 3, 2, 1, 4 balzi laterali e un jump, balzi laterali e salto esplosivo, vai, saltella a piedi vicini, spingi bene con le braccia nel jump esplosivo, sali, vai, balzi laterali e jump in alto, balzi laterali e jump in alto, 3, 2, 1, recupero attivo respira, il nostro esercizio successivo è skip saltato più slancio, 5, 4, 3, 2, 1, skip saltato sinistra e slancio con la destra, skip saltato gamba sinistra e slancio a destra, sincronizza bene i due movimenti, attiviamo le braccia, vai, ancora qualche secondo, 5, 4, 3, 2, 1, ok cambia subito, skip saltato, ora salgo con entrambe le ginocchia, vai, salgo su, lavoro sulle braccia, sguardo in avanti, manteniamo il ritmo, vai, respira, ancora qualche secondo, non ti fermare, mantieni il ritmo, sali, 3, 2, 1, recupero attivo respiro, ci prepariamo l'esercizio successivo skip saltato più slancio, tra 5, 4, 3, 2, 1, skip saltato gamba a destra, slancio sinistra, skip saltato destro e slancio sinistro, sincronizza il movimento, nello slancio tocco la punta, attiviamo le braccia, ancora 10 secondi, skip saltato destro e slancio sinistro, vai, 3, 2, 1, ora solo skip saltato, salta sul posto sollevando le ginocchia, vai, pam, 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 manteniamo il ritmo, non ci fermiamo, solo skip saltato, salta sul posto sollevando le ginocchia da un lato e dall'altro, aiutati con le braccia, ancora 3, 2, 1, recupero attivo respiro, esercizio successivo, scroll più tocco delle punte, 5, 4, 3, 2, 1, vai, mani a terra, salto in plank, tocco la punta destra e sinistra e salgo, mani a terra, salto in plank, tocco la punta destra e sinistra e salgo, sincronizzo i movimenti, vai, scendo, tocco le punte e risalgo, addome teso quando tocco le punte dei piedi in posizione del plank e cambiamo in scroll jack, vai, mani a terra, apro, chiudo una volta e salgo, scroll, apro e chiudo e risalgo, manteniamo il ritmo, addome contratto, respiro, appoggio bene le mani a terra, vai, apro e chiudo una volta e salgo, vai, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, ottimo lavoro, recupero attivo e ora abbiamo il barbie facilitato, 5, 4, 3, 2, 1, salto in alto con le mani dietro la testa, respiro, mantengo il ritmo, massima attivazione di tutto il corpo, gambe, braccia, glutei, miglioriamo la nostra forza esplosiva, reattività e bruciamo calorie, ancora qualche secondo, 5, 4, 3, 2, 1, ok cambia subito, plank in corsa, vai, pam, 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 braccia in linea con le spalle, addome contratto, avvicino le ginocchia in corsa verso il petto, testa in linea con la schiena, respirazione, non ti fermare, 10 secondi ancora, resisti fino alla fine, ancora 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, 20 secondi di recupero attivo, approfitta per respirare, bere un po' d'acqua, ottimo lavoro, ora passiamo allo stretching, siamo a oltre 170 calorie, esercizio successivo, allungamento fianco, 3, 2, 1, mano sul fianco, l'altro braccio teso e mi allungo lateralmente, vai, 3, 2, 1, cambio lato, mano sull'altro fianco e mi allungo lateralmente, non forzare il movimento, mantieni la respirazione, rimani in stretching, esercizio successivo, distensione verticale delle braccia, 3, 2, 1, mani intrecciate, porta le braccia in alto, schiena dritta, mantieni la posizione di stretching e respira, esercizio successivo, mani incrociate dietro la schiena, 3, 2, 1, incrocia le dita delle mani dietro la schiena, braccia tese e petto aperto, respira, non forzare il movimento, esercizio successivo, discesa frontale, braccia tese a mani incrociate, 3, 2, 1, ora scendo frontalmente, sempre mantenendo le mani incrociate, e le braccia tese, le gambe sono tese, mantengo la respirazione, mantieni la posizione, respira, 3, 2, 1, passiamo in divaricata frontale, mantieni la posizione, testa rilassata, allunghiamo bene, respira, 5, 4, 3, 2, 1, e risalgo, il tuo super allenamento è finito, ottimo lavoro, sempre in forma con FixFit, vamos! oggi non ho nessun commento, sono devastata, allora 188, percepite tipo 488, va bene, bello il posto, molto, è troppo? Vabbè vai!